Entro domani si dovrebbe conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Aquila Calcio, in modo tale da poter allestire la rosa che il prossimo anno, salvo sorprese, affronterà il campionato di Serie D dopo l'amara retrocessione dalla Lega Pro. Il direttore sportivo Alessandro Battisti ha tre nomi sul taccuino, Morgia, Feola e Cappellacci. Se dovesse essere scelto Feola, tornerebbe in rosso-blu come suo vice l'ex difensore dell'Aquila Calcio dei tempi d'ora, Alessandro Cagnale. La piazza dimostra di gradire molto il nome di Massimo Morgia per la panchina aquilana, ma con lui vanno risolte alcune questioni ancora aperte con il Siena e all'Aquila il tempo stringe e peraltro si è già in ritardo. Nel frattempo c'è una squadra da rifondare completamente. Sono arrivate anche le ultime rescissioni di Stivaletta e Ceccarelli. L'obiettivo è portare all'Aquila un portiere di livello e due giocatori forti per ogni ruolo, secondo il presidente Corrado Chiodi, che continua a sperare in una riammissione dell'Aquila in Lega Pro, viste le difficoltà economiche di molte squadre che non potranno fare l'iscrizione. Intanto il supporter's trust dell'Aquila, l'associazione di fosi guidata da Marco Mancini, ha chiesto e ottenuto un confronto pubblico con la società del presidente Corrado Chiodi, che ci sarà domani pomeriggio.